Straordinaria la cavalcata che ha condotto il 4 di coppia pesi leggeri femminile azzurro sul gradino più alto del podio. La portacolori delle Fiamme Rosse insieme alla capovoga Arianna Nosseda, Allegra, Franca Lacci e Giulia Mignemi è stata protagonista di una partenza bruciante proprio come era accaduto nella batteria di qualificazione. La barca italiana è transitate ai 500 metri già con un vantaggio considerevole, poi ha aumentato il margine nei confronti delle rivali più accreditate, in particolare delle olandesi, molto temuti alla vigilia sul passo gara. L'imbarcazione di Paesi Bassi ha tagliato il traguardo con oltre 5 secondi di ritardo nei confronti delle azzurre, ancora più staccata la Francia, medaglia di bronzo. L'Italia dunque si concede il tris di prestigio tra le under 23 dopo i successi conquistati nel 2016 a Rotterdam in Olanda e nel 2017 a Plovdiv in Bulgaria. Per la piazzolla invece si tratta del quarto titolo iridato della carriera, considerando anche il più prestigioso quello vinto sempre lo scorso anno a Sarasota negli Stati Uniti ai Mondiali Senior. L'estate agonistica per l'atleta cresciuta con la sezione di barletta della Lega Navale Italiana intanto è appena cominciata dal 7 al 13 agosto e infatti Piazzolla parteciperà ai Mondiali Universitari di Canottaggio in programma a Shanghai in Cina. Nell'occasione sarà in gara nel doppio femminile Pesi Leggeri insieme ad Arianna Noseda, altra iridata under 23 di Poznan e poi dal 9 al 16 settembre a Plovdiv in Bulgaria. C'è l'appuntamento più atteso dell'anno, i Mondiali assoluti di Canottaggio. La campionessa barlettana non è ancora certa della convocazione ma naturalmente vorrebbe esserci per difendere il titolo tra le grandi vinto lo scorso anno nella trasferta a Stelle Strisce. Il meglio, chissà, per lei probabilmente deve ancora venire. Grazie. 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 Grazie.